Il nostro giornale ma subito la sigla e i titoli. La Pasqua della Suora Cosentina in una Bethlehem deserta c'è un clima surreale. La religiosa racconta che nonostante tutto però c'è tanta speranza. Le vacanze di Pasqua, prove generali per l'estate, fanno registrare un incoraggiante trend di crescita. I turisti puntano ad un'offerta di qualità. Tradizionale appuntamento a Catanzaro per la processione della NACA. Centinaia di fedeli hanno percorso le strade della città tra canti e preghiere. Colpo di scena a Montalto Fugo. Il candidato scelto dal PD e dall'amministrazione uscente Luigi Formoso fa un passo indietro. Non ci sono le condizioni. Il tecnico del Cosenza presenta la gara di lunedì con il Brescia. Mi aspetto una squadra vogliosa e determinata. Il Catanzaro parla con la serenità della classifica. Ancora buon pomeriggio dalla redazione del TG10. Dunque da Cerchiara di Calabria a Bethlehem. è la scelta di Suor Vittoria Valentino che dalla cittadina della Cisgiordania racconta come vive la Pasqua e che sentimenti si respirano tra strade con pochi pellegrini e gli echi della guerra in terra santa. Un incrocio di dolore, di attesa e di forte speranza è la Pasqua di Suor Vittoria Valentino, calabrese che da qualche anno vive a Bethlehem. Sentimenti che formano un unico corpo e un'unica anima con le persone del posto, strette nella povertà e nella sofferenza incalzanti. Nella città della Cisgiordania, a quasi 10 km da Gerusalemme, le strade sono deserte. Le saracinesche dei negozi e dei bar per lo più abbassate. Negli alberghi alleggiano soltanto i ricordi dei tempi passati, ma le chiese sono gremite in questo periodo. Sì, perché la fede è il motore a queste latitudini per comprendere quel che sta accadendo da sei mesi a questa parte in terra santa, così come la scintilla per credere nella pace nonostante gli echi vicini della guerra. A Bethlehem, che risente tutte le ripercussioni, tutte le conseguenze di questa guerra, ovviamente ancora non si vedono pellegrini, solo qualche gruppo sporadico di tanto in tanto, ma non vengono a Bethlehem solo per visitare e andare via, perché penso che tutti vivono una certa insicurezza, anche in questi territori. e quindi si legge, nonostante veramente durante le celebrazioni la chiesa di Santa Caterina, le chiese sono gremite, la gente prega, ma nei loro volti, nei loro sguardi, si nota tanta sofferenza e tanta tristezza. Il pensiero alla famiglia che viva a Cerchiara c'è sempre, ma la Pasqua a Bethlehem e per sua vittoria in queste condizioni di carestia, di attesa e di resilienza è un dono. La mia Pasqua è la Pasqua della gente con cui vivo, perché è impossibile non sentire con loro tristezza e angoscia da un lato e speranza dall'altro lato. Sono contenta, dico, di vivere e di condividere questa esperienza, perché qui si vive la Pasqua, come dicevo prima, una Pasqua esistenziale. E le vacanze di Pasqua sono una prova generale per l'estate, ebbene fanno registrare un incoraggiante trend di crescita, i turisti puntano ad un'offerta di qualità. Profumi, colori e sapori di primavera, la settimana santa in Calabria si apre all'insegna degli arrivi, in tanti scelgono la nostra regione come meta turistica, perché ogni angolo è intriso di un fascino antico, fra il sacro e il profano. Ma quali sono i dati che emergono in questo weekend pasquale? Lo abbiamo chiesto al presidente di un'industria turismo Calabria, Cristina Gazzaruso. Il settore turistico rappresenta un punto di forza dell'economia calabrese. Da un recente studio di Union Camere e ISNART, tra il 2000 e il 23 risultano 18.000 imprese legate al settore turistico, con circa 56.000 posti di lavoro creati in Calabria. I dati sono molto favorevoli, perché il comparto mostra vitalità e dinamismo, ma si può e si deve fare di più. Occorre lavorare sicuramente per allungare la stagione turistica e definire un brand Calabria. Bisogna armonizzare le strategie di sviluppo della rete dei trasporti e delle infrastrutture, con le azioni di marketing e la promozione territoriale dei vari mercati. Quello che ci apprestiamo a vivere è un periodo cruciale per il turismo. Aprile e maggio saranno ricchi di ponti, l'ideale per trascorrere giornate di relax insieme alle proprie famiglie. Il turista che arriva comunque in Calabria vuole calarsi nel luogo in cui arriva e quindi vuole fare questa esperienza anche culinaria e sicuramente è un viaggio nel viaggio per il turista, perché oggi il turista quello che cerca è anche un'esperienza unica, per cui è un discorso anche esperienziale. E adesso la ricetta per la nuova economia nel libro dell'ex presidente dell'Inps, Tridico. Provvedimenti non opportuni ed assenza di politiche industriali. Sono queste, secondo l'ex presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, alcune delle cause che hanno portato ad una situazione attuale caratterizzata dalla riduzione dei salari, dalla precarietà e dal declino del Paese. Temi questi affrontati nel suo ultimo libro, Governare l'economia per non essere governati dai mercati. Parte dall'idea che lo Stato debba riappropriarsi della politica industriale, debba dare gli indirizzi strategici sugli assi su cui continuare a investire. Parliamo di grandi capitali, di grandi infrastrutture, ovviamente questo non vuol dire che deve lo Stato nazionalizzare, oppure deve però condizionare gli investimenti quelli grandi e strategici e lasciare invece nel microeconomio, nell'economia regionale, gli avvenimenti e i processi economici alla libera iniziativa e ci mancherebbe altro. Ma gli assi strategici, soprattutto quelli orientati agli alti livelli occupazionali, debbono essere condizionati da parte dello Stato. Così come avveniva anche in passato con grandi iniziative, parliamo appunto di Melfi, ma anche qui nel nostro crotonese ci sono stati grandi investimenti pubblici che erano alla coda della cassa del mezzogiorno. Uno Stato che indirizza, soprattutto sugli assi strategici dello sviluppo, sulle politiche industriali, sulle politiche energetiche, sulla transizione ecologica, sulla tecnologia, su questi grandi scenari dove altrimenti si accumulano divari è la disuguaglianza tra chi detiene tecnologia, porta anche poi grandi redditi, grandi capitali, e gli altri, le classi più basse, i lavoratori che hanno impieghi meno redditizi, aumentano le loro divergenze, le loro disuguaglianze verso i primi. Adesso le amministrative di Montalto Fugo, c'è un colpo di scena, perché il medico oculista Formoso ha ritirato la sua candidatura, al momento in corsa per la carica di primo cittadino rimangono quattro candidati, ma lo scenario potrebbe ancora cambiare. Passo indietro del medico oculista Luigi Formoso, che ha deciso di ritirare la sua candidatura a sindaco di Montalto Fugo. Indicato dal PD e dalla coalizione uscente che fa capo al sindaco Caracciolo, Formoso ha comunicato ai gruppi componenti l'aggregazione patto civico-governo-futuro la propria rinuncia a competere per la carica di primo cittadino. Una serie di circostanze, scrive Formoso, mi hanno portato a maturare questa sofferta decisione, che tuttavia non corrisponde ad una minore volontà di prodigarmi amorevolmente per questo territorio. Ringrazio continua chi mi ha manifestato stima e affetto in questi giorni e soprattutto chi ha sostenuto fin dal principio la mia candidatura. Al momento dunque a Montalto Fugo rimangono quattro i candidati a sindaco, Mauro Dacri, Biagio Faragalli, Emilio Viafora e Antonio Brogno, ma lo scenario è ancora tutto da definire e la coalizione uscente adesso dovrà individuare il suo candidato e secondo i rumors l'operazione si prospetta tutt'altro che semplice. E adesso i riti della settimana santa, tradizionale appuntamento a Catanzaro per la processione della NACA. È una delle tradizioni più suggestive della settimana santa, la NACA di Catanzaro, la morte di Cristo e la sua resurrezione, rappresentate nel rito che richiama nella città capoluogo migliaia di persone. La statua di Gesù è adagiata nella NACA, che è la tipica forma di una culla allungata, ornata di tessuti e attorniata di fiori. Agli estremi della culla ci sono più angeli in cartapesta, che tengono in mano i simboli della passione. L'uscita del simulacro dalla chiesa del Rosario, la NACA, è stata portata a spalla dai Vigili del Fuoco. La processione, guidata dall'arcivescovo di Catanzaro Squillaccio, Monsignor Claudio Maniago, si è snodata tra le antiche strade della città, dando vita ad uno spettacolo di fede e spiritualità. Colori e musica sacra hanno accompagnato il corteo. Durante il tragitto, le croci penitenziali portate a spalla dai fedeli. Nel corteo segue la statua della Madonna dolorata, vestita con abito nero e circondata da sette spade, simbolo dei sette dolori della Vergine Maria. Anche quest'anno massiccia la partecipazione dei cittadini di Catanzaro e dei visitatori provenienti da altre città. Si rinnova così il profondo legame che lega la comunità alla sua tradizione religiosa e culturale. La NACA, infatti, rappresenta una tradizione secolare che lega la comunità di Catanzaro e altri centri calabresi. E Monsignor Rega, Vescovo di San Marco Scalea, esalta il significato della Pasqua nel cuore dei cristiani. Il sole, il caldo e le belle giornate che stanno caratterizzando questo periodo pasquale possono essere considerate una metafora rispetto all'interiorità. Una Pasqua ricca di una luce che può illuminare la vita di donne e uomini è quella che augura il Vescovo della diocesi San Marco Argentano Scalea, Monsignor Stefano Rega. Pasqua è passaggio, passaggio proprio da ciò che è buio, da ciò che è triste, da ciò che è fatica, a ciò che è vita, a ciò che è luce, a ciò che è resurrezione. E questo è quello che il Signore può operare nella nostra vita. Questo è quello che Gesù può veramente fare di bello per ciascuno di noi. E allora togliamo la pietra che magari è sul nostro cuore, sulla nostra vita, togliamo magari quel buio che c'è dentro di noi, per le tante fatiche che viviamo e lasciamo che la luce possa entrare nella nostra vita. Pasqua è anche aiutare a togliere le pietre, i macigni che sono sulla vita, sulle storie di tanti nostri fratelli e sorelle che soffrono. Ecco, la Pasqua è anche aiutare gli altri a liberarsi di pesi, di fatiche, di angosce. Quindi l'augurio è che tutta questa luce, che tutto questo splendore di Cristo risolto possa entrare nella nostra vita. E l'augurio è che ognuno di noi possa aiutare a rotolare le pietre dalla vita di tanti nostri fratelli. E Pasqua è anche solidarietà, vi parliamo adesso dell'iniziativa dell'Associazione Nazionale Insignite al Merito della Repubblica, sezione di Cosenza, che insieme all'Associazione delle Famiglie Italiane dell'Odionio Cosentino ha regalato delle uova di Pasqua ai bimbi più bisognosi. Un uovo di cioccolato per regalare un sorriso ai bambini più bisognosi. L'iniziativa dell'Ancri di Cosenza, l'Associazione Nazionale Insignite al Merito della Repubblica Italiana, portata avanti insieme all'Associazione Age, l'Associazione delle Famiglie Italiane, con sede a Crosia. In collaborazione sia con la Caritas che con altre parrocchie, con associazioni specifiche che si rivolgono a quelle persone più deboli sul territorio, noi ogni festività, che sia Natale o Pasqua come in questo periodo, daremo delle uova appositamente fatte per la nostra associazione da devolvere a questi ragazzi che sono socialmente più vulnerabili. Un piccolo gesto di solidarietà dunque importante per tante famiglie che vivono situazioni di disagio. Ormai è diventata un'abitudine nel periodo pasquale, insieme all'Associazione sia dell'Ancri che all'Associazione Buttiamo un Calcio all'Autismo, di compiere un piccolo gesto di solidarietà, regalare un sorriso ai bimbi che non possono praticamente avere un uovo. Quindi è un piccolo gesto che la nostra associazione fa a questi bambini, facendo gli auguri a tutte le famiglie di una buona Pasqua. La Pasqua è solidarietà, fede, tradizione, ma è anche voglia di stare insieme. Allora, vedo già collegato da Corso Mazzini a Cosenza il nostro Gianluca Pasqua. Vediamo allora cosa succede nel centro cittadino. Ciao Isabella, siamo in giro da un bel po'. Ti sento pochissimo perché la tua voce è praticamente coperta dalla musica di questo locale, uno dei locali che sono rimasti aperti per l'ora di pranzo e che stanno replicando quanto avviene a Cosenza e in altre città nel periodo festivo, in particolare natalizio. Però adesso alcuni esercenti di Cosenza hanno provato a replicare quell'esperienza con dei risultati un po' altraenanti, perché ci dicono che fino alle 13 il corso principale, il corso Mazzini, era davvero brulicante di gente, poi però prevalsa probabilmente la voglia di passare la Pasqua con i familiari, o almeno questa vigilia. E quindi si è svuotata pian piano la città, sono rimaste alcune isole felici, chiamiamole così, come questo locale in via Tagliamento e altri ce ne segnalano sulla via Roma, la chiamiamo con la vecchia denominazione, via Missasi. Ma moltissime persone hanno comunque lasciato la città per ritornare nelle proprie case. C'è voglia di divertirsi, abbiamo intercettato tantissima gente che invece ha scelto di passare la vigilia di Pasqua fuori in modo particolare rispetto alle tradizioni e questo è un esempio con musica e amici, lo stare insieme che piace tanto in questi periodi, fra l'altro facilitato anche dal clima che è molto mite, una classica giornata primaverile, anche più forse perché le temperature superano i 20 gradi, anche se il cielo è un po' plumbeo e minaccia ancora una volta una pioggia con qualche residuo della sabbia del Sahara che è arrivata negli ultimi giorni. Diciamo una mattinata all'insegna dell'allegria dei locali, dello stare insieme, poi il pomeriggio si va a casa, ci si prepara per la domenica, così Gianluca? Ci si prepara per la domenica e anche per il lunedì, perché no, perché le previsioni questa volta sono benevole, anche per la Pasquetta non capita spesso e c'è anche un altro appuntamento che forse introduce i prossimi servizi, che è quello col calcio, perché si torna in campo a Pasquetta con la Serie B, sia Cosenza che Catanzaro saranno in campo, ma naturalmente in Calabria si guarderà la gara casalinga del Cosenza al Marulla contro il Brescia alle 15, mentre il Catanzaro giocherà fuori casa e sarà un'altra opportunità di passare una Pasquetta particolare. Grazie Gianluca, buon lavoro, beh, ha anticipato la pagina sportiva, perché proprio questa mattina il tecnico del Cosenza ha presentato la gara di lunedì con il Brescia, ha detto Viali mi aspetto una squadra vogliosa e determinata, mentre il Catanzaro parla con la serenità che deriva dalla posizione in classifica. Per Viali la sfida di lunedì con il Brescia ha un sapore particolare il doppio confronto. Nei play-out ha premiato il gruppo Rosso-Blu e adesso inizia un rush finale da seguire tutto d'un fiato. Ha cambiato moltissimo, forse ha cambiato un po' nella fase offensiva il Brescia. Sicuramente cambia l'aspetto mentale, nel senso che l'ultima partita che ho giocato qui era quella di play-out d'andata, quindi potete immaginare che l'aspetto nervoso e di tensione fosse sicuramente molto diverso. E quindi è sicuramente curioso che l'ultima prestazione, l'ultima panchina che ho fatto con il Cosenza è stata con il Brescia e la ricomincio in questo stadio con la stessa squadra. Queste sono le coincidenze che quest'anno mi hanno accompagnato molto. come la prima di campionato qui, quindi fa parte del percorso e cercheremo di viverla nello stesso modo come quella dei play-out. La speranza è quella. Tutino scalpita per far parte dell'undici che affronterà la squadra di Maran, il tecnico. Ha altre 24 ore di tempo per valutarne l'impiego in uno scampolo di gara. Anche per Meroni si apre uno spiraio di vederlo sul terreno di gioco dopo mesi di stop. Ci sono buone sensazioni. Se doveste chiedere a Tutino vi direbbe sicuramente di sì, nel senso che c'è una voglia di rientrare che è clamorosa. Questa sarà una scelta legata non prettamente dalle scelte tecnico-tattica, chiaramente, ma sarà un confronto fra lo staff tecnico e anche quello medico. La Meroni ha una condizione ottima, si è allenato molto bene. Rispetto ai suoi compagni o magari una mancanza di prestazione nei 90 minuti in partita vera perché chiaramente viene da quasi tre mesi di inattività, però la condizione fisica è ottimale. Il Catanzaro invece viaggerà alla volta di Parma per affrontare la capolista. Fuori casa l'undici di Vivarini nel giro di ritorno ha collezionato due vittorie e due pareggi con una sola sconfitta contro il Feral Pisalò. Dall'altra parte, Pecchia è in serie positiva da ben otto giornate e al Tardini giallo-blu sono imbattuti da più di un anno. Sarà una gara da tripla dove avrà la meglio che ha motivazioni maggiori. Una notizia che riguarda la sanità, una buona notizia perché è operativa nell'ospedale di Lamezza Terme un'attac di ultima generazione. Sono in consegna in tutta la Calabria le nuove apparecchiature acquistate proprio per gli ospedali calabresi. Scrive il presidente Occhiuto sui social tra mille difficoltà avanti per restituire il diritto alla cura a tutti i cittadini. Dunque aumenta l'offerta così si riducono le liste d'attesa. Questo davvero lo speriamo vivamente. Allora, per il momento è tutto ma vi ricordo che subito dopo questa edizione del nostro giornale c'è un nuovo appuntamento imperdibile con Focus Cultura a cura della nostra Rosalba Baldino. grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi. Previsioni per oggi nel pomeriggio sulle coste bel tempo con cieli sereni in montagna bel tempo con cieli sereni In serata sulle coste bel tempo con cieli sereni o velati in montagna bel tempo con cieli sereni Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti